Una veglia di preghiera a Lampedusa per stare vicino a chi fugge dalla guerra o scappa dal suo paese alla ricerca di una vita migliore. È stato questo l'intento del movimento del rinnovamento dello spirito che ha promosso l'iniziativa organizzata da diversi giorni ma che è andata a coincidere con la fine, almeno momentanea, dell'emergenza migranti nell'isola. L'isola si svuota momentaneamente ma è pronta a riempirsi perché nuovi arrivi, nuovi approdi si annunciano e la domanda rimane la stessa. Quanto i nostri cuori, i cuori dell'Italia, dell'Europa, non soltanto della gente di Lampedusa che ha mostrato un cuore grande, un cuore forte, sono disposti ad aprirsi dinanzi a questa emergenza delle proporzioni di un esodo biblico. E proprio i Lampedusani possono essere considerati una popolazione simbolo per la solidarietà verso i fratelli migranti mostrata in questi mesi. Penso che più che con le parole abbiamo parlato con i gesti. Gesti molto semplici che però dicono la comunione e la condivisione con chi non conosci, con chi non l'hai mai incontrato ma hai saputo leggere negli occhi il bisogno del cuore.